Gabriele, tu sei uno dei capi famiglia che ha deciso di occupare uno dei appartamenti qui all'hotel Elena, ma come mai? Allora, noi abbiamo visto il servizio tramite le Iene, siccome siamo famiglie disagiate, ci siamo riuniti con altre famiglie come noi, abbiamo deciso di occupare. Noi innanzitutto vogliamo fare capire al comune che esistiamo anche noi come famiglie disagiate, abbiamo bisogno di un tetto, qualunque cosa loro ci offrono noi andiamo via di qui. Non abbiamo toccato nemmeno un chiodo, come vedete c'è tutto sistemato, tutto pulito e tutto messo in ordine. Mi sono occupato, a Palermo il lavoro non ce n'è, io sono qui con la mia compagna che è incinta di nove mesi. La storia di Gabriele è la storia delle tante famiglie che a Palermo decidono di occupare immobili e abusivamente. Attualmente all'interno dell'hotel Elena di piazza Giulio Cesare si trovano 17 famiglie, hanno occupato l'ex hotel martedì sera, altri si sono aggiunte ieri. Sono venuti a conoscenza del caso, come ci ha raccontato Gabriele, tramite il servizio della trasmissione Le Iene, che denunciava il fatto che l'hotel di proprietà dell'ex magistrato Giusto Sciacchitano era stato sequestrato perché non in regola. Nonostante infatti la mancanza delle necessarie autorizzazioni, continuava ad affittare le camere abusivamente. Un abusivismo nell'abusivismo dunque. Le famiglie che hanno occupato i mini appartamenti arrivano da Ballarò, da Corso dei Mille e da Brancaccio. Alcuni di loro vivevano in auto o in case in cui non potevano più pagare l'affitto. Tra le famiglie ci sono anche una ventina di bambini piccolissimi, donne incinte e un ragazzo disabile. Intanto al momento sono 750 a Palermo le famiglie che hanno occupato abusivamente immobili. L'emergenza abitativa in città sembra essere diventata ormai una vera e propria piaga sociale. Come diceva bene, l'emergenza abitativa possiamo considerarla cronicizzata. Per cui oggi noi abbiamo oltre 2200 famiglie in gradatoria di emergenza abitativa. Oltre 750 famiglie senza casa che non avendo avuto nessuna risposta dalle istituzioni hanno da sé occupato immobili di proprietà pubblica abbandonati. Abbiamo oltre 500 persone, tra queste alcune famiglie, costrette a vivere totalmente per strada.